I comuni di San Giustino, Città di Castello e Citerna hanno raggiunto un accordo sul tracciato che dovrà percorrere la E78 nel territorio Umbro. Ora con il coordinamento e la collaborazione della Regione Umbria, il documento verrà trasmesso a Danas e dunque ai progettisti chiamati a realizzare l'opera stradale. A dare la notizia l'assessore regionale alle infrastrutture e viabilità Enrico Melasecche, il quale ha definito storico l'accordo che ha visto la luce dopo una lunga serie di incontri e colloqui tenuti sì con il commissario straordinario per i lavori di completamento della E78 Massimo Simonini insieme ai tecnici interessati e alle amministrazioni comunali. I tre municipi si sono presentati con una proposta unitaria presa in positiva considerazione dai rappresentanti di Anas. Melasecche ha riferito che tutto dovrà essere oggetto di approfondimento ma che sussistono altresì le migliori condizioni per la realizzazione dei due lotti da terminare in territorio umbro e per il ripristino della vecchia galleria della Guinza. In questo modo, ha sottolineato l'assessore, non solo i progettisti Anas potranno lavorare con maggiore chiarezza e speditezza ma sono state create le condizioni per evitare che nella futura conferenza di servizi qualcuno dei soggetti interessati possa obiettare criticità e ritardare il finanziamento delle opere e la loro successiva canterizzazione. La progettazione dei lotti Umbri di completamento della E78 era stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture la scorsa primavera. Il primo cantiere a partire sarà quello della vecchia galleria della Guinza costruita circa 30 anni fa e che attraversa la catena peninica umbro-marchigiana. Verrà utilizzata prima del completamento della seconda canna per ragioni di sicurezza un'unica carreggiata nel senso Umbria Marche. Sarà poi fruibile l'intera ampiezza a due corsie. L'appalto è stato finanziato per un importo di 90 milioni di euro. Il sindaco Luca Secondi sul completamento della E78 ha detto abbiamo messo a disposizione il nostro territorio e a questo punto attendiamo che ANAS ci sottoponga gli elaborati tecnici del progetto del tratto Umbro della E78 per aprire la doverosa fase di partecipazione con la Commissione Assetto del Territorio e con il Consiglio Comunale, nella quale faremo tutte le valutazioni politiche nell'interesse della collettività.